La conferenza dei capigruppo del Comune di Imperia ha stabilito di convocare il Consiglio Comunale per giovedì 26 ottobre a partire dalle 18. Il Consiglio non si occuperà però della discussione sulla fiducia al sindaco Carlo Capacci nell'aria fin da inizio estate, ma affronterà temi prettamente amministrativi. All'ordine del giorno, fra le altre cose, il bilancio consolidato del 2016, la ratifica delle variazioni al bilancio 2017, la revisione delle partecipazioni del Comune in società e ancora la ricognizione dei chioschi per attività commerciali su aree pubbliche e il bilancio sociale di metà mandato. Il parlamentino infine dovrà discutere una mozione di Fratelli d'Italia inerente allo Ius Soli e una mozione di Imperia Bene Comune relativa invece alle problematiche connesse alla nuova stazione ferroviaria del capoluogo.